Allora, adesso vediamo la prova croccantezza di una pala alla romana. Prego. Apprendi da là. Così. Allora. Prova croccantezza. Ok. Buon, diciamo, un buon risultato. Come prima, il primo testo, non si rimane. Ok. Ok. Qua l'hai schiazzata un po' troppo, ma si poteva lasciarla un po' più sviluppata. Ecco. Stop.